Guardando agli ultimi 15 anni, Giorgio Calabro è stata una delle anime della politica sestrese, vice sindaco e assessore fino al 2013, poi assessore ai lavori pubblici fino al 2018, infine consigliere di maggioranza indipendente. Ora tenta la corsa sindaco, sostenuto dalla lista Sestri al centro. 75 anni pensionato, nel suo programma ci sono interventi per un IMU, agevolata a chi affitta a coppie giovani, e per abbassare i prezzi degli asili nido. Intende istituire un tavolo permanente con i ragazzi per elaborare idee e progetti, e continuare a collaborare con le parrocchie e le associazioni. Spinge per migliorare la sentieristica, per perfezionare il bike sharing e le piste ciclabili, e per istituire d'estate un servizio di navette gratuite per portare i turisti in spiaggia. Nella Baia del Silenzio intende mantenere il numero chiuso con alcune modifiche. Infine solleciterà città metropolitana e regione a lavorare sui progetti di dessalinizzazione del mare. Vorrei innanzitutto contribuire a mantenere questo tessuto sano e collaborativo che ha già la città di Sestri. Secondo me questo è molto importante. Nel mio programma ho previsto di istituire un assessorato, assessorato ai servizi sociali e alla solitudine, per focalizzare la visione verso le persone che vivono sole, che hanno difficoltà a compilare anche dei semplici moduli, e che comunque non hanno la possibilità di usufruire della collaborazione dei familiari. Perché penso che a Sestri nessuno si deve sentire solo e il Comune abbia il dovere di dare una mano. Per quanto riguarda la mia lista, preciso che non è una lista che non fa capa a nessun partito, è una lista civica di persone che si sono coalizzate per il bene di Sestri. Quindi invito a votare Calabro Sindaco, Sestri al centro.